segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te allora 13 02 sta entrando in studio una mia vecchia amica che sono molto felice di avere qui oggi anche tuttora la conosce bene questa un tempo era anche un po casa sua rula cebre al eccoci qua buongiorno ben trovata buongiorno che bello vederti e che bello avere due chiacchiere con una donna è una grande collega allora adesso parliamo di tante cose tu e me devi essere con due donne come noi devi essere sveglio e pronto sveglio sì solo che insomma c'è da parlare un po di questo fine settimana al momento